Il mestrino Francesco Kautz ha vinto la seconda edizione della Aquatic Runner Extreme Border Lagoon, gara di 24 km di nuoto e corsa, partita da grado e arrivata alla terrazza a mare di Lignano Sabbia d'Oro, dopo un saliscendi tra il mare e gli isolotti che delimitano la laguna di Marano. Kautz, che succede nell'albo d'oro a Gianni Sartori, vincitore dell'edizione 2014, ha concluso il suo sforzo dopo 2 ore 35 minuti e 51 secondi, distanziando di quasi 14 minuti lo svedese Antonov e di oltre 15 minuti il ticinese Kattori. Nella gara femminile ha vinto la casalese Jessica Galleani, davanti a Silvia Colussi e la triestina Marina Novell. Al termine di una competizione in grosa, combattuta e disputata su distacchi più contenuti di quella maschile. Quella del 2015, su un percorso inverso rispetto all'edizione precedente, è stata la Aquatic Runner delle Conferme. L'innovativa manifestazione, che ha toccato i territori di Grado, Marano e Lignano, portando in diretta tv le immagini della splendida natura lagunare friulana, ha garantito spettacolo, risultati sportivi e promozione del territorio. In gara si sono presentati 180 atleti provenienti da Italia, Svizzera, Ungheria, Francia, Slovenia, Croazia, Germania, Austria, Svezia, Gran Bretagna, Sudafrica, Russia e Stati Uniti. La Aquatic Runner Extreme Border Lagoon 2015 era valida anche come prova unica del campionato nazionale Xen, tanto che il referente Eliseo Rainone ha consegnato a Francesco Caus anche il premio tricolore, mentre Riccardo Ross e Francesco Verna si sono classificati al secondo e al terzo posto nella speciale classifica Xen 2015. Il pordenonese Riccardo Ross è il primo atleta regionale al traguardo. Il podio degli atleti regionali è completato da Luca Sabotto e Dennis del Bianco.